...dello spazio, il sesso e l'età... ...sì, questi sono diversi... ...quattro, siamo... Bene, io vi parlo di una cosa che è diversa. Come vedete parliamo di un uomo di Leanderthal ed è l'assumente di cui mi sono occupato chiaramente, non è l'unico, ma è una cosa abbastanza di interesse. Posso vedere subito la prossima? Guarda, dovresti col telecomandino potersi poi vedere. Avanti e indietro, c'è il punto del progresso. Sì, è il punto del progresso. Sì. Dunque, siamo ad alta la città del pane. E ci occupiamo dello scheletro scoperto letta di fa. Ovviamente è parte di un'attività di ricerca, per me, consueto. Insomma, quello che facciamo noi, parlo antropologo, è proprio di studiare ossa umane più o meno antiche, di solito fossili, di solito in qualche modo rappresentative di un percorso che è quello della nostra emozione. Come vedrete, quello che facciamo è cerchiamo di misurarle, di descriverle, di interpretarle in qualche modo, tenendo conto che il nostro campo ha fatto dei progressi molto grandi negli ultimi eventi e trent'anni. Progressi che includono dei cambiamenti radicali nel modo di affrontare le forme biologiche, quindi di carmofologia, e dall'altro anche l'ingresso in questo campo, un po' prepotente, della biologia morcolare. Quindi la possibilità di estrarre anche i segmenti di DNA da queste ossa più o meno antiche. Il tutto si combina fortemente con altri aspetti, però, che non sono solo quelli della ricerca, ma hanno anche a che fare con beni preziosi, oggetti di importanza culturale, quelli che vengono chiamati come beni culturali, patrimoni dell'umanità. Uno schermo di un nostro antenato, o anche una parte di uno schermo di un nostro antenato, è qualcosa che va innanzitutto preservato, perché è un documento unico e come tale può rappresentare un progetto di interesse anche per ricerca e cultura. Oggi magari non siamo in grado di fare delle determinate analisi, domani lo saremo. E comunque rappresenta un... C'è anche un aspetto, se volete, di tipo etico, si tratta comunque delle spoglie mortali del divino. e magari per un anno e per nessuno ci fa troppo caso, ma le popolazioni molto più recenti entrano in gioco anche aspetti etici. o politici, di politica, sapete, tutta la storia della ripatriation, per quanto riguarda i resti scheletrici delle popolazioni aborigine, oppure l'esposizione di resti umani a pubblico. Tutti i problemi che insomma, quindi ovviamente entrano in gioco e in questo caso, l'uomo di Altamura, è un caso che tocca alcuni di questi aspetti che vanno anche un po' al di là del campo della setta attività di ricerca. Dunque, Altamura, Altamura, sapete che è vicino a Bari ed è una città in un'area che si chiama La Lottamurgia, in un'area brulla, cartellizzata da sedimenti da rocce calcare e in quanto da avi carsiche. Quindi si tendono a formare delle cavità sotterranee e la zona è quindi abitualmente battuta da speleologi. Molti anni fa, vent'anni fa per la precisione, degli speleologi di Altamura individuano un capovento. Capovento significa una fessura nel terreno brullo della burgia da cui arriva un soffio d'aria fredda. Questo è il sintomo per loro, l'indicazione del fatto che di sotto c'è una cavità più o meno grande e che loro vedono lo tradizionale esplorare e fare prossimo. Perché c'è anche, proprio ovviamente, la gioia del possesso da parte di speleologi nel momento in cui hanno la possibilità di accedere a una cavità carsina per la prima volta loro e esplorarla e potrebbero descrivere. Insomma, c'è un aspetto anche di questo tipo. E gli speleologi del Kars di Altamura, sempre il centro altavurano di crete speleologico e di fronte a questo capovento lavorano per un intero anno, tutti i fini settimane, allargando piano piano questa fessura da gugliana in aria fredda. Tanto da bere quella cavità che vedete lì, tale da poter essere, da consentire l'accesso a un corpo umano. Scendono da questa perforazione che uno stessi ha prodotto agirano come ostacolo e si trova in una grande stanza che in realtà è ripiena di un conoide detritico probabilmente il risultato dell'accumulo di sedimenti dall'originaria apertura di questo sistema karsico. C'è un pozzo naturale che deve aver funzionato come trappola per questi sedimenti e poi cominciano l'esplorazione. Vanno via, tornano, poi tornano con degli amici del gruppo Vespertilio di Bari ed è uno di loro, degli ospiti, che penetrando qui nel remoto antro di questo sistema karsico scopre lo scheletro che vedete qui rappresentato, l'avete visto già in qualche immagine in giornale o in televisione perché è un scheletro davvero spettacolare. Si tratta di un intero intero scheletro qua c'è tutto qui in primo piano adesso non so se si vede abbastanza bene in queste immagini ma ci sono c'è il bacino poi qua vedete delle ossa lunghe questo è un femore questa è una tibia c'è un obero delle costole qua sotto c'è la mandibola e poi c'è questo cranio rovesciato tutto incastonato all'interno delle statiche che sono formate all'intorno e è tutto caratterizzato da questa presenza di formazioni in cosiddette quarantiforme cioè il risultato di spruzzi d'acqua cariche di calcare per rafforzare queste gocce che si vanno via via stratificando la stocretta è di interesse ovviamente si capisce subito che si è detta di uno scheletro umano e gli speleologi forse non hanno subito la chiamenza che si è detta di uno scheletro umano decisamente arcalico e tant'è che coinvolgono i miei colleghi commerciali di Bari che scende con loro erano i primi di ottobre del 1993 e il mio collega ha la possibilità di descrivere questo scheletro come uno scheletro decisamente arcaico certo qualcosa che non merita di chiamare i carabinieri non è un caso di vicino alle gambe è un caso insomma di ricerca per la destra e si vedono chiaramente queste orbite sporgenti e queste scusate arcate sovraorbitate sporgenti sopra le orbite questa volta bassa e allungata e anche a un occhio esperto queste ossa lunghe dicono che si tratta di uno scheletro umano non moderno comincia una storia che è una storia purtroppo molto italiana nel senso negativo del termine una storia di contrattazione tra di conflitti di competenza tra l'Università di Bari e la sua internazza archeologica di Pugliese e addirittura i due misteri e sembra che non si faccia mai il giorno secondo che poi alla fine viene stilato un accordo di programma tra i due misteri che prende in pugno la situazione che vuole l'Università di Bari che si chiama Vittorio Pesce del Filo un professore il cui cognome ovviamente è un ossimolo che tutti sanno che i figli sono cresciti a parte gli scherzi Vittorio Pesce del Filo è una persona molto competente e preparata è un grande affabulatore ed è uno di quelli che ha studiato la sindone non so se forse avete sentito questo nome negli studi sindologici o sindonologici e Vittorio si convince nel tempo relativamente breve che questo scherzo per il momento in pratica è come se non si potesse studiare effettivamente è talmente incastonato nella roccia che è così coperto da queste concrezioni coraliformi che diventa veramente difficile poter immaginare un vero e proprio studio estrarlo non se ne parla anche perché c'è localmente un partito molto forte che è proprio quello guidato potremmo dire dagli speleologi che effettivamente qua si mettono a confronto distanze diverse da un lato ci può essere il mondo della ricerca che dice beh ragazzi qua abbiamo uno scherzo completo di una forma umana istinta non ce n'è un ruolo questo è un assolutamente tirato fuori studiare è un bene talmente lezioso per la scienza e per la ricerca che non va a sprecare da questo stasione c'è la gente di Antapura c'è il mondo anche dei beni culturali delle sovintendenze che dice che questo reperto deve essere un reperto in qualche modo preservato innanzitutto tutelato in quanto un bene culturale qualcosa che appartiene a tutti può rappresentare come una risorsa straordinaria per il turismo per la cultura in genere anche se innanzitutto bisogna riconoscere per poterlo poi in qualche modo comunicare insomma e poi ci sono soprattutto gli stereologi gli scopritori che hanno dalla parte loro la legge perché comunque è previsto un premio di scoperta è prevista comunque una sorta di priorità su certe decisioni anche quantomeno in chiave diciamo di influenza e c'è il punto di vista dello stereologo che vede tutto esattamente a rovescio per questo non è un reperto scheletrico di importanza straordinaria come adesso vi dirò meglio questo è un ciliegina cosa tocca cioè questa è la loro grotta che loro hanno scoperto che loro stanno descrivendo che loro stanno mappando e che rispetto a tutte le altre grotte del pianeta è quella con lo scheletro a carico incastonato dentro una roccia quindi non è lo scheletro la cosa più importante in quanto tale è importante in quanto rappresenta un unicum nel sistema un cazzico che loro hanno scoperto Vittorio invece di Fino mio collega di Pagli sposa un po' queste vari tensi combinandole tra loro e decide che a quel momento questo scheletro non va toccato e per 20 anni non sarà toccato 15 quello che vi fa è monitorare la grotta è un progetto che è stato chiamato Sarastro credo si chiama un acronimo che cosa è stato questo progetto Sarastro sono stati due miliardi di dire che sono stati impiegati per viattare una masseria lì vicino ripida di computer con dei joystick da questi computer si possono muovere delle telecamere rotanti che sono all'interno del sistema cazzico ci sono delle luci del sistema cazzico ci sono cavi del sistema cazzico e tutte queste vedete qua si vede male qua questa è una mappa del sistema della grotta e ci sono non so se da qui lo vedete alcuni punti ci sono i punti dove ci sono queste telecamere come per le di sicurezza come una goccia e quindi uno dà la masseria un po' con dei joystick muovere queste telecamere e fare una specie di visita all'interno della grotta questo può essere fatto dai visitatori dai turisti o come anche dai ricercatori anche se francamente il risultato non è esaltante perché la grotta sta ferma in realtà poi mentre c'è delle camere che seguono qualcosa che non si muove come in segni forse forse non ha tutto questo senso forse lì basta fare un film in 3D e poi consentire una visita virtuale all'interno del film senza riempire la grotta di telecamere di luci di cavi tutte cose che hanno indubbiamente alterato parecchio questo ecosistema insomma il clima il microclima della grotta tra l'altro va aggiunto che dopo circa un anno era tutto da buttare perché l'unità della grotta ha danneggiato i versi di mettere le camere e pure le luci qualche taglio l'hanno fatto creando qualche formazione verde quella all'interno del sistema quindi non è un progetto che ha avuto molto successo tanto è che dopo alcuni anni con le telecamere ormai spente e con la masseria chiusa perché non c'era il sonale per poter accogliere i turisti un sovrintendente locale e anche credo un giudice hanno saputo che andava tutto smontato e che andava a buttare la pagina a quel punto abbiamo votato la pagina e a quel punto siamo stati coinvolti anche noi in particolare sottoscritto due collegate dell'università di Firenze quest'altro signore che è un esperto di Roma 3 ma oggi è una rete di studio centrale del restauro eccetera e abbiamo avuto l'autorizzazione a cominciare finalmente dopo 15 anni dalla scoperta di questo sistema e di questo scheletro di fare un piccolo perlievo di un osso però abbiamo sfruttato la possibilità che era fornita dall'esistenza di una stanza retrostante a quella che viene chiamata l'abside dell'uomo cioè questo scheletro si trova praticamente adagiato con una gula di calcare all'interno di una stanza molto piccola che viene chiamata appunto l'abside dell'uomo se notate però ci sono delle fessure qui che vi fanno capire che indietro c'è un altro piccolo vano e in questo piccolo vano sono cadute alcune delle ossa dello scheletro e alcune sono anche frammentate quindi in questo piccolo vano ci sono delle ossa frammentate e che sono anche le meno contaminate dalla presenza di spereologi ricercatori tecnici dell'impianto che è stato messo eccetera e questo è molto importante per poter avere un campione rosso che sia il più possibile incontaminato e quindi un ottimo oggetto di studio per il DNA per l'estazione di DNA così abbiamo fatto quindi Gianfranco Michele che il signore che vedete qui mascherato nel senso che è appunto proprio che è in Italia con quel tipo di inquinamento umano e con questi bracci telescopici e riusciti a prelevare il frammento che è stato immediatamente messo all'interno di questa busta di plastica atteguta serine e tutto è stato infilato all'interno di una scatola refrigerante mi ricordo ancora quella sera quando con la busta chiusa e ben sigillata con una l'albanina la bajour della stanza d'hotel guardavo quest'osso per cercare di capire cosa diavolo fosse il frammento che è stato rilevato e si capisce abbastanza bene che si tratta di una porzione di una scapola si ha la presenza di un frammento quello che non ho messo in questo slide è una scapola intera per farvi capire meglio si ha la presenza di una porzione di scapola la porzione articolare di una scapola in pratica contro questa specie di buchiaino ad osso si va ad articolare la testa dell'uomo e qui è cominciato uno studio che ci ha portato finalmente ad avere qualche dato sull'uomo di Altanura questo è un articolo che è stato pubblicato un mese fa su una rivista del settore che è la nostra rivista di punta insomma nel campo dell'evoluzione umana si chiama Giurla L'Opima Devolution dove abbiamo potuto fare finalmente dopo vent'anni della scoperta tre cose finalmente una datazione di questo scheletro incredibile a dirsi ma fino a questo momento non si sapeva quanto fosse un tipo si pensava mezzo di due anni 400.000 200.000 poi erano state fatte dei tentativi di datazione qualche anno fa e puntavano tutti a 40.000 adesso capite che sto dicendo dei numeri che non credo che alla maggior parte di voi dicano qualcosa ma uscidiamo tra datazioni che sarebbero appropriate per forme di un tipo quello che molti chiamano homo erectus fino ad attrazioni invece tipiche di umanità che tutti conosciamo come ne ha in realtà abbiamo ottenuto dei risultati che sono diversi da questi due estremi e adesso vi dirò poi l'altra cosa che siamo riusciti a fare è studiare la morfologia di questo frammento rosso prima di doverlo sacrificare l'estrarre il DNA e qui abbiamo fatto un'altra cosa che adesso vi dirò che è stato il primo studio quantitativo della morfologia di questo schermo dopo 20 anni è abbastanza da lo sanno e infine abbiamo tentato soprattutto le mie colleghe dell'Università di Firenze da ricaramente di attentato di estrarre il DNA e c'è riuscito nello schermo dell'uomo di altamura c'è ancora il DNA umano conservato e ci vorrà dire molto su le caratteristiche di questo schermo quello che vedete qui è una specie di topografia della disposizione delle ossa e vedete una immagine di quella stanzetta retrostante all'abside dell'uomo dove ci sta un omero e vari altri frammenti tra cui quello da noi prelevato che è questo qua chiamato 200 l'articolo è stato pubblicato da una rivista di settore ma devo dire ha avuto fortuna perché ha subito rimbalzato su vari media giornali riviste siti web e anche sulla rivista di punta nel campo della ricerca che è Nature abbiamo avuto l'onore di un highlight di Nature con tante di fotografia forse anche guidata spettacolare di questo schermo che cosa abbiamo fatto vi dicevo innanzitutto abbiamo fatto una datazione le nostre datazioni sono quelle in rosso e in magenta e sono delle datazioni stratigrafiche dunque in una rotta si può usare un sistema di datazione che si basa su una serie del uranatorio in pratica si data l'epoca in cui la calcite si è deposta sull'osso in questo caso l'importante è sempre un criterio di tipo stratigrafico cioè questa calcite si deposita a strati come strati di una cipolla quindi si deposita prima uno strato poi un altro poi un altro poi un altro fino a più recenti se io vado a datare lo strato più esterno ovviamente ottengo una data molto recente quello che devo datare è quello più a ridosso dell'osso e ancora meglio se riesco a fare una datazione stratigrafica cioè se riesco a datare vari di questi livelli che devono avere una loro poerenza interna in modo da andare dalla data più recente alla data più antica ed effettivamente noi abbiamo ottenuto date relativamente recenti relativamente ovviamente variamo di 40.000 20.000 anni fa e poi date via via più antiche che si discostano dal grosso delle date che erano state anche in precedenza ottenute da un altro nostro gruppo di colleghi qui in della Sapienza ma indicano che quelle giuste non sono la maggior parte non c'è da fare un discorso statistico non c'è da fare un discorso stratigrafico in questo caso e le date più corrente sono ovviamente quelle più aderenti all'osso o alla statattita e abbiamo ottenuto una data di 150 160.000 anni circa come punto di caduta tra un minimo di 130 e un massimo di 170 anni questo significa che abbiamo davanti a noi la possibilità di studiare uno scherzo praticamente completo del più antico Neandertal o di uno dei più antichi Neandertal adesso ve lo dirò meglio ma insomma l'umanità che chiamiamo Neandertal ha un suo acme un suo punto di massimo sviluppo intorno a un terzo di questa datazione io ho 50.000 anni no qua siamo a una datazione tre volte più antica e siamo in una fase in cui un uomo di Neandertal per così dire mondia i suoi primi bassi e ultimi esistava ormai definitivamente differenziato dalla specie precedente che è quella che in un continuo che non la chiamano Omedon bergensis quindi l'uomo di Antamura è un revento non solo molto completo ma anche molto interessante perché è in una fase di chiamiamolo snodo tra due specie la specie precedente Omedon bergensis che è una specie esistita in Europa per centinaia di migliaia di anni e i Neandertal che proprio da uomini come quello di Altamura cominciano a caratterizzarsi in maniera definitiva come tale secondo risultati il secondo risultato e il terzo sono quelli che riguardano la morfologia adesso anche visto il tempo non vi trattengo molto su questo ma vi dirò che anche con mia sorpresa perché non lo sapevo prima questo cucchiaino ad osso come ho chiamato cioè questo punto di articolazione tra la scapola e la testa dell'omero è estremamente diagnostico dal punto di vista delle forme di vita che andiamo considerando nell'ambito dell'evoluzione umana questa è una una delle componenti principali basate sulle metodi di morfometria geometrica che sono questi metodi nuovi che noi adesso usiamo e consentono di vedere una variabilità progressivamente diversa da forme più arcaiche e via via fuori più recenti questi sono Homo sapiens per carici questi sono Neandertal e Altavura sta tra loro e il tutto è decisamente coerente con il risultato del DNA per il momento è un risultato assolutamente razziale qua la notizia è che c'è DNA ma è ancora tutto da studiare e quel poco che è stato studiato c'è un segmento del DNA è di tipo Neandertalini quindi veniamo a sapere che lo schede dell'Altavura è un Neandertal che è un Neandertal davvero arcaico e tutto questo è coerente con la morfologia della scapola come anche gli altri aspetti che sono ancora per così dire ascendi rispetto alla morfologia tipica di Neandertal quindi è un segmento davvero straordinario non solo per la sua competenza ma anche per il tipo di analisi qua vorrei fare una veloce digressione sul fatto che oggi lo studio della morfologia ha fatto dei passi straordinariamente importanti e tutti diventando in questo modo perché abbiamo la possibilità innanzitutto di acquisire informazioni attraverso immagini altamente di altissima qualità sono quelle che possiamo ottenere attraverso una TAC ma anche attraverso una tomografia con luce di sincrotone se uno può essere arrivato al micron di analisi quasi istologica per esempio e poi tutto questo quindi possiamo a limite anche sacrificare un pezzo per estrarre il DNA perché tanto lo abbiamo completamente acquisito attraverso queste scansioni sequenziali a livello di micro e al tempo stesso possiamo utilizzare queste nuove tecniche nuove nel senso che sono comparsa sulla scena una ventina d'anni fa che dedicano ad un campo che chiamiamo morfometria geometrica che sono la saldatura di due mondi che per secoli non si erano mai uniti che è il mondo delle misure delle ossa combinate con la tridimensionalità della complessità della profurgia di queste ossa fino a una ventina d'anni fa eravamo costretti a misurare alcuni parametri ma poi la complessità tridimensionale dell'oggetto eravamo costretti a descrivere la parola mentre adesso abbiamo dei descrittori quantitativi della complessità tridimensionale cioè possiamo dare dei numeri proprio al forno che significa poter misurare la forma della sua complessità e questo per esempio noi abbiamo applicato fatto nel caso di questo cucchiaino rosso e questa è l'ultima immagine che vi voglio vedere per farvi capire un attimo meglio di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di un momento in una storia complicata che è la storia dell'evoluzione del genere uomo chi conosce Lucy e i nostri antenati vi dovrete immaginare su quest'altra parete al di là del muro perché qua stiamo soltanto considerando gli ultimi due milioni di anni cioè stiamo considerando l'evoluzione del nostro genere il genere uomo a partire da circa due milioni di anni fa in Africa che vedete che è una storia di successive diffusioni geografiche in Europa come in Estremo Oriente i Neandertal sono il risultato di una di queste storie di una di queste tante storie in particolare il nuovo di Neandertal si caratterizza quassù in Europa non solo in Europa anche vicino all'Oriente in parte dell'Asia settentrionale per gli ultimi 200 300 mila anni questo 0,2 sta per 200 mila anni il nuovo di Altabura come vedete che è la cui radazione rappresentata da questa linea gialla è uno dei più antichi almeno dei più antichi noti perché in queste epoche più antiche ancora in realtà i reperti a disposizione sono moltissimi e l'origine delle Neandert la stimiamo più sui dati molecolari o quelli archeologici piuttosto che su quelli scheletrici e vedete come appunto siamo in una fase in cui mentre in Europa si stava evolvendo l'uomo di Neandertal altrove cioè in Africa compariva la nostra specie Homo sapiens che rappresentava in questo grave questo grande triangolo ora c'è un punto ancora ulteriormente interessante riguardo l'uomo di Altabura l'uomo di Altabura è lo scheletro più completo in assoluto tra tutti i Neandertal uno dei più antichi ed anche uno di quelli da cui si può estrarre il DNA prima di qualunque possibile contatto con Homo sapiens cioè con la specie moderna perché la specie moderna cioè la nostra compare in Africa e poi si diffonde geograficamente e arriva a toccare gli ultimi a incontrarci con gli ultimi Neandertal prima in vicino oviente e poi sul tempo europeo e questo secondo ricerche che vanno avanti ormai da una decina d'anni ha comportato delle ibridazioni tra le due specie cioè in ciascuno di noi sembra che ci sia un 3-4% di DNA Neandertaliano un DNA Neandertaliano che si è andato diluendo nelle nostre popolazioni e quindi frammentandosi e quindi frammentandosi in maniera diseguata insomma per cui i componenti di DNA Neandertaliano che ciascuno di noi porta che si aggirano tra il 2-4% sono diverse da individui a individui l'uomo di Altamura è uno scheletro che ancora è molto prima di qualunque contatto con lo sapiens e per cui ci può dare un'indicazione molto precisa delle caratterizzazioni di questa umanità estinta quindi capite bene che si tratta di un reperto di straordinaria importanza e continuare a trattarlo come un monumento intoccabile è una cosa assolutamente fuori dal mondo ancora di più se vogliamo considerare il fatto che è irraggiungibile da parte di chiunque lo voglia vedere se non è attrezzato come uno speleologo anche abbastanza capace perché ci sono alcuni passaggi non facili da superare per arrivare all'abside dell'uomo all'interno del sistema caratterizzato quindi quello che noi stiamo cercando di fare cercando di convincere anche la gente della Tavura è che questo reperto vada documentato al massimo stiamo facendo delle riprese stiamo facendo una serie di operazioni per documentare la situazione attuale al meglio tanto da poter riprodurre in museo una copia praticamente identica dello schermo dell'uomo della Tavura così com'è nella grotta però poi bisognerà passare alla rinunzione di alcune di queste schermo anzi tendenzialmente è tutto come in qualunque avventura archeologica e paleontologica si fa purtroppo qualunque ricerca di questo tipo è in qualche modo irreversibile cioè portata da rimosso che potrebbe essere studiata d'altra parte d'altra parte quelle ossa lì sotto non potrebbero mai essere studiate perché essendo coperte tutte le inscrizioni corralicolini la morfologia è oscurata completamente potrebbero invece essere completamente ripulite queste confrezioni senza farlo meccanicamente ma con i sistemi digitali che oggi ci consente della tecnica cioè il cranio va preso staccato dal sistema il cranio il portato rosso va preso portato magari a Grenopil o a Trieste dove c'è un acceleratore di particelle per poter avere una risoluzione massima della resa tomografica e poi a quel punto una volta ottenute tutte queste fettine virtuali del cranio e che potranno essere poi rimontate in 3D e ripulite virtualmente delle confrezioni il cranio così come con tutte le sue grave confrezioni può essere messo in una stanza un po' come è stato fatto a Bolzano con la lunga del seminario cioè qualcosa che possa essere visitata e visibile alla popolazione e questo è il progetto che stiamo cercando devo dire con una certa fatica di sottoporre alla gente del posto che invece per vent'anni si è affressionata l'idea di qualcosa di assolutamente intoccabile che deve rimanere di sottoterra ai peritori della memoria pubblicità grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti